I carabinieri della compagnia di Ariano hanno eseguito nei confronti di un anziano un'ordinanza di obbligo di dimora nel comune di residenza. Il provvedimento è stato disposto dai magistrati della procura di Benevento. All'anziano è stato anche vietato di accogliere in casa collaboratori o badanti in quanto è ritenuto responsabile del grave reato di sequestro di persona, minaccia aggravata e lesioni personali ai danni di una donna straniera che per un periodo si era presa a cura di lui. L'uomo infatti, stando a quando emerso dalle indagini, aveva sottratto alla badante il passaporto e il telefonino obbligandola inoltre a non uscire di casa. Il GEP ha anche disposto il sequestro preventivo di beni immobili ed immobili e disponibilità finanziarie dell'anziano per un valore di circa 90.000 euro. L'uomo è infatti accusato anche di truffa aggravata e danni dello Stato in quanto durante le indagini è stato accertato che dal 2008 ha beneficiato della pensione e dell'accompagnamento per cecità, infermità evidentemente del tutto falsa. L'indagato per un lungo periodo è stato seguito, intercettato e filmato anche mentre era alla guida di un mezzo agricolo.